Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence TV, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono 3 km di coda in direzione Firenze, tra Ginestra e Lastra a Signa. Un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sul raccordo sia da Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata al chilometro 289 tra Rosignano e Cecina. La viabilità cittadina a Firenze in via Bolognese per lavori alle tubature, restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Poverci Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!